Chiunque su questo pianeta, quasi tutti, sono convinti che ci sono degli apparati a certi livelli, si parla sempre di livelli, che a certi livelli la gente, chi di dovere, chi ne sa, possiede le informazioni. Quindi anche qua è rassicurante questa idea, molto rassicurante l'idea che ci siano dei militari, di qualsiasi tipo, che sono in grado di occuparsi di questa cosa e di tenerli testa eventualmente, perché sono in grado di catturarli, sono in grado di appropriarsi dei loro mezzi per quanto schiantati. In alcuni casi si parla anche di aver catturato, come ho detto, dei loro effettivamente astronavi. Altra, terza informazione che veicola questa cosa.